Ave legionari, la battaglia del Vesuvio, una battaglia che ho voluto fare perché ci sono tanti elementi interessanti, siamo nel primo periodo della storia di Roma, l'esercito è un esercito ancora arcaico con tanti elementi che poi nel corso del tempo si sono persi, è una battaglia ed è un mondo, quello romano, in cui c'è tanta religione, tanta superstizione, tanti momenti che sono passati alla storia perché epici e quindi è una battaglia che deve essere secondo me approfondita per capire qual è stata l'essenza di Roma, specie nel suo periodo iniziale e quindi raccontiamo come al solito l'antefatto. Battaglia del Vesuvio, siamo nella primissima parte, proprio primissima parte della Repubblica Romana. Nel Lazio c'è la popolazione dei latini che vivono il versante verso, diciamo, il versante ovest degli appennini verso il Lazio e sono proprio loro a dare il nome alla regione Lazio. I latini sono fondamentali per la nascita di Roma, una delle tre tribù sulle quali è nata Roma è proprio la tribù dei latini, quindi sono una popolazione che è nel DNA di Roma. Però allo stesso tempo Roma si è evoluta, ha affrontato tutto il periodo della monarchia, dopodiché ha spodestato Tarquino il Superbo, ha affrontato gli ultimi nemici nella battaglia del lago Regillo che trovate nel canale ed è diventata una repubblica autonoma, indipendente sia dai latini che dagli etruschi che da qualsiasi altra influenza. A questo punto i latini e i romani indipendenti sono alleati, sono alleati e insieme combattono un nemico comune che sarebbero i sanniti. I sanniti erano una popolazione vecchia, gloriosa, guerriera che occupava il sannio, per capirci l'attuale Molise, prevalentemente Molise è una parte della Campania, e i latini assieme ai romani combattono contro i sanniti, una guerra lunga perché i sanniti sono dei guerrieri molto valorosi, ma alla fine la prima guerra sannitica viene vinta da questa coalizione, cioè dai latini e dai romani. Succede però a un certo punto, in un gioco delle parti, che i romani dicono ai latini di smettere di attaccare i sanniti perché ritengono la prima guerra conclusa e quindi secondo il parere del senato di Roma non bisogna più andare avanti con le ostilità. E i latini si rifiutano. Si rifiutano non solo perché hanno una valutazione diversa di come andrebbero trattati i sanniti, ma anche perché sono scontenti, non si sentono abbastanza rappresentati dal senato della città di Roma. Quindi queste tensioni vengono a galla e quelli che prima erano alleati diventano ora nemici e si combattono nella battaglia del Vesuvio. È una battaglia che vedremo nella ricostruzione molto bella, molto eccitante, vedremo anche il grande sacrificio di un grande console romano, insomma ci sono tutti gli elementi per emozionarsi in questa meravigliosa battaglia del primo periodo della storia romana che adesso andiamo a vedere. Prima dell'inizio della battaglia del Vesuvio, i due consoli e generali che dovranno guidare l'esercito romano, Manlio Torquato Imperioso e Decio Mure, si rivolgono agli Aruspici, dei sacerdoti che analizzando il fegato degli animali riusciranno a indovinare il futuro. E qui accade una prima cosa molto importante, gli Aruspici prevedono che ovunque Manlio andrà avrà la vittoria. Questo significa per Decio Mure che dovrà essere pronto a sacrificarsi, a immolarsi qualora le circostanze lo richiedano. Decio Mure quindi fa un solenne giuramento di sacrificarsi anche a costo della vita pur di portare l'esercito romano alla vittoria. Ed eccoci alla cartina della battaglia, cominciamo subito a vedere. Innanzitutto Battaglia del Vesuvio 340 a.C., le animazioni realizzate da mio fratello Alessandro e abbiamo scelto, grazie a Google Earth, di riprendere esattamente le pendici del Vesuvio, quindi proprio la zona geografica, la stessa zona geografica dove si sarebbe svolta la battaglia. Vediamo ovviamente la disposizione iniziale e qui abbiamo i romani e dall'altra parte in azzurro chiaro i latini. Nella prima linea romana abbiamo 15 manipoli, qui ovviamente sono stati semplificati, abbiamo 15 manipoli di astati. Gli astati sono dei ragazzi nel fiorfiore dell'età, come dicono le fonti antiche, i più giovani muniti prevalentemente appunto di aste che avevano il compito di attaccare e di sopportare il primo scontro con la fanteria nemica. Quindi era la prima linea dei più giovani, dei più forti, dei più vigorosi. Nella seconda linea abbiamo i principes. I principes erano sempre giovani ma avevano comunque alle spalle qualche anno di esperienza, erano muniti e combattevano prevalentemente stavolta con il gladio e quindi erano diciamo una parte consistente ed importante, la seconda fila, diciamo quasi la parte più forte dell'esercito. Nella terza fila abbiamo al centro invece i triari. I triari sono i soldati più forti, con maggiore esperienza, che sono sopravvissuti a più battaglie, sono il nerbo, il vero e proprio nerbo dell'esercito e sono l'extrema razio, cioè quelli che entrano in gioco quando proprio le altre due file non sono riuscite a risolvere la partita. Sono evidentemente le truppe più potenti che si utilizzano solo per definire una partita, una battaglia che non è stata risolta prima, non è stata risolta altrimenti. Sulla sinistra abbiamo una unità dell'esercito comunque diciamo arcaico, del primo periodo dell'esercito repubblicano, i cosiddetti rorari che poi nel tempo sono scomparsi. I rorari erano equipaggiati molto malamente, avevano solamente le frecce, i giavellotti, quindi servivano prevalentemente a fare numero, a supportare le altre truppe e ad intervenire laddove si potevano creare dei buchi. Dall'altro lato abbiamo gli accensi, gli accensi ancora meno, erano armati prevalentemente con delle fionde, quindi erano soldati molto leggeri, però anche lì effettivamente avevano il compito di fare numero, di fare massa. Queste sono le tre linee dell'esercito romano. Decio si posiziona sull'ala sinistra dell'esercito, pronto a fare il sacrificio anche, no? Abbiamo visto prima che ha giurato agli dei, mentre invece Manlio, il predestinato dagli dei romani, guida la parte destra che tradizionalmente è quella più forte. Come erano disposti invece i latini? Ecco, questa è una cosa importante. I latini governati dal generale Numisio erano disposti in maniera esattamente speculare. I romani e i latini, l'abbiamo detto, avevano sempre combattuto insieme e quindi condividevano le stesse tattiche, le stesse tecniche, i modi di combattere, si conoscevano l'uno con l'altro. Quindi questo è molto interessante, si fa fatica a superare e a vincere un avversario che ti conosce alla perfezione. Quindi qua ci troviamo veramente di fronte a uno specchio, due forze che si equivalgono grandemente. A questo punto comincia lo scontro, con questa disposizione speculare inizia la battaglia del Vesuvio e parlano le armi. I due eserciti iniziano, si fronteggiano, si avvicinano ed entrano evidentemente in contatto. Lo scontro è effettivamente uno scontro molto forte, molto duro e qui bisogna dire che i romani cominciano ad avere, dopo gli scontri iniziali, qualche difficoltà. Perché i romani erano molto disciplinati, ma i latini erano anche fisicamente dei guerrieri più prestanti rispetto ai loro avversari. E quindi che cosa succede? Succede che a un certo punto la prima linea degli astati, la prima linea romana degli astati, comincia a cedere sotto la pressione dei diretti avversari. E quindi gli astati si ritraggono, come prevedevano le tecniche del tempo, si ritraggono e mandano avanti la seconda linea, quella dei principes. C'è proprio uno scambio sulla linea di combattimento. Questo ovviamente è una dimostrazione di efficienza da parte dell'esercito romano, però ci sono dei problemi. Cioè questo significa che sono in svantaggio a livello puramente tattico e di combattimento. Quindi l'esercito romano soffre. Rendendosi conto, e qui c'è la parte più leggendaria, più epica dello scontro, rendendosi conto che i romani stanno soffrendo, che il suo esercito è veramente in difficoltà, il console di sinistra, Decio Mure, decide di onorare la sua promessa e decide di sacrificare la propria vita. Secondo le cronache, infatti, lui monta a cavallo e pronuncia un discorso solenne, importante, prima di lanciarsi. Giano, Giove, Padre Marte, Quirino, Bellona, Lari, dei novenzili, dei indigeti, dei nelle cui mani ci troviamo, noi e i nostri nemici, dei mani, io vi invoco, vi imploro e vi chiedo umilmente la grazia. Concedete benigne ai romani la vittoria e la forza necessaria, e gettate paura, terrore e morte tra i nemici del popolo romano e dei quiriti. Come ho dichiarato con le mie parole, così io agli dei mani e alla terra, per la repubblica del popolo romano dei quiriti, per l'esercito, per le legioni e per le truppe ausiliarie del popolo romano dei quiriti, offro in voto le legioni e le truppe ausiliarie del nemico insieme con me stesso. A questo punto Decio, dopo questo discorso importante sentito, rivolto agli dei, dopo il cosciente sacrificio della sua vita, lo vediamo dall'animazione, decide di lanciarsi direttamente nella mischia. E' un attacco fenomenale quest'uomo vestito di bianco che attacca l'avversario. I latini vengono molto sorpresi, vengono spaventati da quest'uomo. Secondo le cronache di Tito Livio non sembra neanche un uomo, sembra un dio, sembra un semidio che sta combattendo e fa strage fra i suoi nemici. Prima, ovviamente, soverchiato dal numero degli avversari, riesce prima evidentemente a uccidere qualcuno e poi viene ammazzato. Viene ammazzato, distrutto, crivellato da una grandissima quantità di frecce e quindi con il suo sacrificio passa definitivamente alla storia. A questo punto che cosa succede? Accade che Manlio Imperioso, che ha visto col cuore in mano, ha visto il sacrificio del suo collega, decide di spronare i romani, che grazie a questo straordinario esempio di comportamento riprendono forza e combattono più forte di prima. Quindi i romani incitati da questo grande sacrificio non cedono ma combattono e tirano fuori tutto il nervo, tutta la forza che hanno e tutto l'onore di Roma. A un certo punto Manlio prende, al di là però dello scontro e della foga, prende una decisione tattica importante. Cioè decide, e qui facciamo molta attenzione, Manlio decide di far intervenire dal retro, decide di far intervenire i rorari e gli accensi. Quindi vediamo che dalla parte dei romani queste due unità, evidentemente, si aggiungono alla prima fila, si aggiungono e danno supporto ai loro compagni. Dall'altra parte l'esercito latino, vedendo, attenzione, vedendo questa mossa, fa evidentemente altrettanto. Fa altrettanto e quindi anche gli accensi e i rorari dei latini, mano a mano, si spostano dalle loro posizioni e si aggiungono anche loro, prima uno e poi l'altro, alla fila del combattimento. Ma qui c'è veramente l'elemento che fa la differenza, che decide la battaglia. I latini, vedendo la mossa dei romani, credono, ritengono, che siano stati impiegati anche, attenzione, anche i triari. E quindi, pensando che dall'altra parte persino anche i triari siano stati coinvolti nel combattimento, decidono, e lo vediamo di nuovo dall'animazione, di usare i loro triari che si aggiungono alla prima fila. Ma questo è un errore, perché in realtà Manlio i suoi triari non li ha usati, non li ha usati per niente. E quindi questo errore di valutazione da parte dei latini porta i romani ad avere un vantaggio. Il nervo del loro esercito non è stato ancora impiegato, hanno una riserva fresca. E quindi che cosa succede? Lo vediamo da questa animazione, abbiamo poi semplificato. A questo punto, dopo tutta questa mischia, Manlio lancia un accorato appello ai suoi triari, che evidentemente sono ancora freschi, e le sue parole ci vengono riportate da Tito Livio, dagli storici antichi. Ora alzatevi e affrontate freschi come siete il nemico sfinito, ricordandovi della patria, dei genitori, di mogli e figli e del console caduto per la vostra vittoria. A questo punto i triari romani si aggiungono alle file e evidentemente riescono a superare i loro avversari. I triari romani vincono i triari latini e decidono la battaglia del Vesuvio in favore di Roma. I romani hanno vinto la battaglia del Vesuvio, rimane evidentemente una serie di cose importanti da considerare. Innanzitutto vennero tributati dei grandissimi onori al console Decio Mure, che si è sacrificato, come vi ho raccontato, in maniera plateale, in maniera quasi sovrannaturale. Quindi il nome di Decio Mure deve rimanere nella mente degli appassionati di storia romana, perché ormai è una leggenda. Ma è importante, anche dopo la vittoria sui latini, ci sarà da parte dei romani la volontà di comunque collaborare, integrare queste popolazioni, quindi risolvere le questioni sociali, i problemi di integrazione, di convivenza, ed è stata questa l'arma che ha permesso alla società romana, poi ovviamente, di tenere diversi popoli sotto la sua idea, sotto l'Aquila di Roma. Si conclude così un altro passo fondamentale della prima parte della storia dei romani. Vi invito, come al solito, a iscrivervi al canale, perché altrimenti verrete sacrificati come Decio Mure, e questo potrebbe essere abbastanza... Sì, passereste alla storia, però c'è il dettaglio che dovreste morire, e quindi vi invito ancora vivi al prossimo video, iscrivetevi e alla prossima! Grazie a tutti!